Non bastasse l'influenza nefasta sull'umore del pazzo alternarsi di piogge, ondate di calore, grandi nessiccità, vento che soffia più veloce di un'auto lanciata su un'autostrada deserta, tuoni, fulmine e temporali che sembrano diluvi, il maltempo di questa estate è anche un costo elevatissimo, 288 milioni di euro. Parliamo di danni ovviamente, soltanto negli ultimi quattro mesi e a quantificarli in via provvisoria è la regione Emilia-Romagna. Iniziamo da maggio, il più piovoso dal 1961, dice Arpae, un record su 189 anni, afferma Unimore. In media in regione sono caduti dal cielo 225 mm di pioggia che hanno causato diverse esondazioni e danni stimati da Viale Aldomoro per 233 milioni di euro. Scorrendo l'estate arriviamo a giugno, mese dei record, da un lato, afferma Arpae, il più secco in assoluto e il secondo più caldo dopo il 2003. Dall'altro, quello della tempesta di Grandine con chicchi enormi che a fine mese in tutto il territorio regionale ha devastato finestrini e vetrate, mandando almeno 50 persone al pronto soccorso e poi il vento che a Modena ha sfiorato i 111 km orari. Poi è arrivato luglio e con lui la pioggia, caduta al doppio rispetto alla norma, 78 mm contro i 41 della media dal 1991 al 2018 e la regione civile che ha emesso una lunga serie di allerte meteo gialle per piogge intense, vento e grandine. Uno di questi, datato 9 luglio, ha annunciato l'arrivo del super temporale che ha devastato la costa romagnola, con la tromba d'aria che il 10 luglio ha spazzato via Milano Marittima e Cervia, sradicando 2200 alberi e facendo volare lettini e ombrelloni, rimessi poi al loro posto in tempi record. Meno record saranno i tempi dei risarcimenti per gli ingenti danni. La regione ha infatti chiesto al governo di riconoscere lo stato di calamità naturale, ma la richiesta è stata respinta. Un vizio di forma, dicono da Roma, ipotesi respinta da Viale Aldomoro che garantisce sulla sua correttezza. Infine ecco agosto, che di fatto ha sancito la fine di questa estate con i suoi temporali conditi da grandine, vento e acqua volontà, per un costo che ammonta 7 milioni e mezzo di euro.